Gli anni chiusi, non sia cattile. Aggiore di guardra... ..la chi c'è un sito e non l'ho contente. Mi cagliano slogan in più. Mi guardano degli sloagani e io mi guardo che cef cef. Mi guardo con cui niente e un passaggio. Tanto mi guardano gli sloagani a qua. Mammani mi cagliano slogan in qua subito. Mi guardano che il mio figlio andava a dire questo. Quindi ho scommato io e mi ripiego näilla e i tussolira un test di un saldo una cosa e la prima cosa cacce in modo una cosa l'uomo si non Anahitua Magambo Kristoffer Ndikuja la sfoga nia kichofu Sarana lakinyombe Ambalikuwa inangufu inapawa Nalimombiatu Magambo Kristoffer Ukikutala na ndonga mozi ya unalala Lakini mishosikuli ndonga ikawainangufu Tua kini kualilia Anachosia gai mtoka Kwa salle lele kubilele pandalaki lakini Yalilia pandalangu Samu launi ya kwanza dakika ya kwanza Second ya pi Kantoza mbu 30 Yalilia Yalilia ulasema minki Yani kunoyedea mwweza fumunia�po Unamia Sainte minasumili kasi yako Sipa kufamoyo Na huu Iesani huu bunguza u zwei Sì, non è un po' di farlo, non è un po' di farlo, non è un po' di farlo. Sì, 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 non è un po' di farlo. Sì. Non è un po' di farlo. Sì, non è un po' di farlo. Sì, non è un po' di farlo. Sì, non è un po' di farlo. Non è un po' di farlo. Sì, 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 non è un po' di farlo. La scéola, ecocene, non è un po' di farlo. Allre Grazie a tutti 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 Grazie a tutti